Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video! Io sono Marta Laguardiana slash Tecnica Dottore di Orneva Tutti da Pugliana! Ciao, sono io, Casimiro Novescott! E oggi parliamo di LJ App Store, che è un Facebookiano! E ora è un Facebook... non lo so, non è Facebookiano! E' un Facebook! Ah, su Facebook! Non ti preoccupare ragazzi, però fammelo sapere nei commenti sotto alla descrizione! Ma è youtuber? Facebooker? Vabbè, è facile! Quello di LJ è un Facebooker, che lo farà una mistrattrice, quello di Circus Baby, che è un vero capo, quello di Circus Baby Pizza World! E poi... anche quello di Tattletail? Sì! Ha ragione! E qual è il personaggio preferito di LJ? Ehm, quello viola! Quello viola Tattletail! Ah, giusto! Poi, quello di Sister Location? Circus Baby! Che è significato Circus Baby! Oh, Circus Baby! Oh, visto? Ho pronunciato bene! Allora... Allora, raccontiamole una storia! Non ti preoccupare, allora... Crea un account... E poi usciva... Per un... po'... Diciamo... E si può ricreare... Caccellare, ricreare, caccellare, ricreare, bla 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 bla... E stop! E ora... Che si fa? Allora... Ehm... Ehm... Faremo una sostituzione! Chi? Io? Ah, ok! Allora, mi raccomando, speriamo che voglio dire... I'm hoping we're trying... Facebook! Everywhere! Don't worry! Let's talk a little about... How about sister-education character? It's like his baby! Is the main clown? Yup! Ok, basta, qui in inglese è un po'... ...difettoso. It's kind of a bit crazy right now! Casimira! Te l'ave l'ho detto! Non ti preoccupare! Mi raccomando! Hello Jerry! I hope you like it! Se vuoi, fammelo sapere! Se avete mi sono piaciuto, cliccate per like e iscrivetevi sul canale! Iscrivetevi al commento sotto nella descrizione e noi ci vediamo al prossimo video! In guardia! Ciao ragazzi e ragazze! Ci vediamo in un altro episodio! E ti amo! Ciao!